Il 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 che segna il primo tempo e la partita, si combatte a centrocampo, spinta ingenua di Ervolino su pelle e secondo giallo per il centrocampista che lascia la squadra di Albertini in dieci uomini e così inizia il monologo della formazione di casa, Guerci esce bene in presa bassa su Panzani lanciato verso la porta avversaria, poi sempre Guerci attento sul tiro cross di Carnevale mentre il diagonale di pelle successivamente finisce a lato di un nulla, eccolo qua il tentativo del numero dieci del club Milano che è un po' troppo leggero sotto porta sul cross di Principi, nessuno riesce a girare in porta mentre il primo tempo di fatto si chiude col destro alto di Berberi per un oltre po' comunque avanti di un gol pur sotto di un uomo nei primi 45 minuti. Con le immagini nella ripresa e subito calcio di punizione di pelle alto per un club Milano che attaccherà per tutto il secondo tempo giocato di fatto a una porta sola, Giuseppe Scavo protesta per un presunto fallo su Panzani che invece guadagna solo il cartellino giallo per simulazione, si discuterà in conferenza stampa anche di questo episodio mentre l'oltre po' sfrutta la sua esperienza e difende estrenuamente il risultato, Guerci attento prima sul tiro di Ponzi mentre alla mezz'ora si rivedono i pavesi con un tiro di Diana che colpisce però all'esterno della rete e poi ancora club Milano, prima il cross di pelle sul quale non interviene nessuno, poi la danza di Costa in area di rigore ma sullo scarico del centrocampista proprio pelle manda a lato col piattone, l'occasionissima è sul colpo di testa di Cominetti ma il riflesso di Guerci vale la vittoria per un oltre po' determinato mentre il club Milano ancora una volta riceve complimenti ma non fa punti, alla fine esulta la squadra di Albertini che inizia bene il 2023 e resta più che mai viva in zona playoff. Grazie